Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Facciamo Cinema. Oggi andremo a parlare di un personaggio molto amato da adulti e bambini, Scooby-Doo. Il franchise del nostro fifone ma simpatico Alano conta decine e decine di produzioni tra serie tv, film, fumetti, speciali televisivi, videogiochi e dvd. In questo video andremo ad analizzare anno per anno successi e note dolenti del mondo animato del nostro cucciolone e il suo gruppo di amici. Partiamo dal principio. Siamo nel 1968 in America quando varie associazioni per la difesa della famiglia accusano le varie emittenti televisive di mandare in onda serie animate troppo violente. Tale accusa si rivelerà fondata e porterà alla cancellazione di molti cartoni. Ne occorreranno dunque di nuovi ed è così che Fred Silverman, vicepresidente della CBS, ordina alla casa di produzione Anna Barbara, ex leader del disegno animato, uno show simile ad Archie, commedia musicale, tratta dall'omonimo fumetto e andata in onda per una sola stagione, composta da 17 episodi. Gli animatori Joe Ruby e Ken Spears concepiscono House of Mystery, horror per ragazzi, voluto da Silverman e basato sul programma radiofonico I Love a Mystery, che diventerà poi Mysteries 5, band musicale che tra un successo e l'altro risolve casi soprannaturali, accompagnata dal cane Too Much. Per le troppe somiglianze con la serie originale vengono apportate varie modifiche, i personaggi vengono ridotti a quattro e il Bobtail diventa un alano, un completo cambio dei nomi e nasce così Scooby-Doo. La prima serie, andata in onda per la prima volta dal 13 settembre 1969 e composta da due stagioni per un totale di 25 episodi, della durata di poco più di 20 minuti ciascuno, riscuote subito un enorme successo. In questa prima serie, la Mystery Incorporated, squadra di investigatori a tempo pieno, composta da Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley e Norville Rogers, alias Shaggy, si imbatte nei più inverosimili casi misteriosi, accompagnati dall'alano Scoobert Scooby-Doo, vero protagonista della serie, inserito per smorsare l'attenzione e regalare divertenti gag riuscite grazie all'interazione con il fidato amico Shaggy, che non si comporta mai da padrone. I punti di forza della serie sono molteplici, dalle divertenti assonanze dei titoli, perse con la traduzione italiana, alla struttura, la Mystery Inc. che arriva nel luogo dell'indagine, la presentazione del villain, tutti i personaggi secondari sono sospettati, l'indagine prosegue, la squadra di solito si divide, spuntano fuori indizi o nuove comparsate del cattivo, le indagini talvolta si intrecciano e la squadra progetta poi la trappola per la cattura finale, che puntualmente fallisce, ma in circostanze fortuite e inaspettate, Shaggy e Scooby-Doo riescono a catturare il colpevole, il quale confesserà i propri crimini e sarà arrestato, lasciando spazio per una gag finale a chiusura dell'episodio. Infine è interessante notare la caratterizzazione accurata di ogni singolo protagonista. Fred è il leader che progetta le trappole e il bello del gruppo. Daphne è la ragazza bella e disattenta, spesso viene catturata dai mostri, ma sovente durante il rapimento riesce a scoprire nuovi indizi e segreti utili alle indagini. Velma è il cervello del gruppo, vera e propria enciclopedia umana, alla quale non sfugge mai niente, tranne quando perde gli occhiali, mentre Shaggy e Scooby-Doo sono i più fifoni del gruppo, spinte all'azione solo grazie all'amore per il cibo, in particolare per di Scooby Snack, croccantini che possono mangiare solo se decidono di sacrificarsi come esca per attirare i mostri nella trappola. Importante e iconico anche il mezzo di trasporto con il quale la squadra può viaggiare da un posto all'altro, la Mystery Machine. Grazie al successo della prima serie, tradotta e distribuita anche in altri paesi tra cui l'Italia, nel 1972 Scooby-Doo diventa un fumetto e vengono stampati 26 volumi con titolo ripreso dalla serie TV Scooby-Doo Where Are You, mentre arriva in TV la tanto attesa seconda serie The New Scooby-Doo Movies, nota in Italia come Speciale Scooby, ma trasmessa dalla Rai anche come Li Speciali di Scooby-Doo, Scooby-Doo Speciale e Le Nuove Avventure di Scooby-Doo. In questa serie i nostri, a cavallo del loro inseparabile furgoncino, decidono di prendere una pausa e di concedersi gite di piacere, ma in ogni episodio continueranno a imbattersi per caso in diverse guest star, caricature di personaggi famosi o di fantasia, come Batman e Robin o la famiglia Adams, che chiederanno il loro aiuto per risolvere i casi più disparati. La prima stagione della serie, composta da 16 episodi, va in onda nel 1972, mentre dell'anno successivo la seconda stagione, composta da 8 episodi. Tra il 1973 e il 1974 esce anche la nuova serie a fumetti Scooby-Doo Mystery Comics, composta da 27 volumi.